Siamo a Ilan al water geothermal square dove solitamente si passa la domenica in famiglia e si cuoce il cibo nell'acqua termale One water bamboo, egg, two, cancion only E' tutto cotto! Adesso andiamo a sciacquare le uova Ecco qua Vai! Che bello! Oh mio dio ma il gusto è di uova sodo La prima volta che mangio questo water bambù me lo mangio dal centro E' super buono, è super dolce Buono, rosso Ora zuppa di pollo Molto buono Morbido, buono Zuppa di pollo, saggia, saggia Inaspettatamente buono E' l'acqua termale baby? Super approvato Ciao ciao Domenica al parco c'è